Siamo in Ovalia, adesso c'è la sorpresa finale, qui sono dei bambini che hanno sofferto per tutta la serata ascoltare queste cose pesantissime, adesso li voglio tutti qui vicino, facciamo un giro tondo, le prove sono state e me spedite, ascolta queste canzoni, partiti, ho un coro che va dai 4 ai 23 anni, non facciamo i timidi, è quelli che c'erano prima, quelli che c'erano prima l'ospera, li vado a prendere io, non vedo mai Francesco, ha tornato, dovrebbe essere Alessandro, C'è mai anche un bambino che si chiama Lorenzo che ha altro circa così, se vuole venire anche lui, è una canzone del 68 questa, anche le mamme, quelle che c'erano prima, non è che si portano adesso. Marco Dotti, grazie. Si è addormentata una parte del corpo. Rotti, non lo ricordate? Rotti, grazie. 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 Grazie. Rotti, grazie. Grazie. Rotti, grazie. Grazie. Rotti, grazie. Grazie. Rotti, grazie.